Ciao, sono Marco Cetti, maestro di Kung Fu Vietramita, e in questo corso ti presenterò i fondamenti e i rudimenti dello studio dell'arma lunga. Iniziando ovviamente dalla sua arma più semplice, il bastone contadino, semplicissimo. Infatti per questo corso dovrai procurarti, per esercitarti, ovviamente un bastone lungo. Non devi essere troppo alto, altrimenti ingombrante, ma nemmeno troppo basso, altrimenti non puoi utilizzare le linee fondamentali per i maneggi e per gli attacchi le parate, che sono infatti le tre direttrici fondamentali su cui si articolerà il corso, che a sua volta è suddiviso in tre livelli, base, ma di difficoltà crescente. In questa maniera potrai avere una panoramica complessiva dello studio dell'arma lunga, delle sue componenti principali. Mi raccomando, prima di qualsiasi esercizio, scaldati bene. Almeno spalle, gomiti, mani e dita, in maniera da essere più sciolto e più fluido nei movimenti. Detto questo, ti aspetto nel corso. Ciao, buona giornata!